Oggi facciamo i muffin al cioccolato. Per farli serve un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di olio, un bicchiere di zucchero, un bicchiere e mezzo di farina, il cacao, lievito, un uovo, due barrette di cioccolato, uno bianco e uno fondente e l'aroma al rum. Per iniziare verso tutti i liquidi nella planetaria, olio, uovo, aggiungo la fiatta di rum e faccio partire la planetaria. Un bicchiere e mezzo di farina, un bicchiere di zucchero, mezzo bicchiere di cacao, lievito e faccio andare di nuovo la planetaria. Le due tamolette di cioccolato e le spezzetto. Le vado a mettere nell'impasto. Rimesto. E mettono la formina. Forno prescaldato a 180 gradi e via. E quindi i muffin sono pronti. E questi sono i muffin. E si serve la nostra figlia. E 고�فulmati. E' iniziata. Guardate voi. Tutti. Guardate, casesi... ... ... Grazie a tutti.